Guardate, si tratta di situazioni particolarmente delicate, ma lo abbiamo sempre detto. Lo Stato certe volte crea problemi incredibili. Quante ditte sono fallite perché non hanno ricevuto i contributi, i pagamenti, quello che dovevano avere. Abbiamo un'intervista che però non vi trasmettiamo oggi, la trasmetteremo lunedì con l'avvocato D'Agostino di Napoli, lui fa parte di un'associazione di quelle che difendono i consumatori. In pratica quello che bisogna fare è denunciare, anche denunciare le persone che commettono delle ingiustizie, però oggi non abbiamo il tempo per farlo e andiamo avanti. Allora, il problema del grano lo abbiamo detto, gli aiuti alle persone. Resta fortissimo il problema del petrolio. C'è stata una trasversalità in questi due giorni perché l'onorevole Nino Minardo, ma giustamente penso, ma comunque rappresenta quello che dice il suo partito, la Lega e oltretutto ha delle attività, la sua famiglia proprio nel petrolio e nella trasformazione del petrolio, dice Ma se noi accettiamo in modo così, senza dire nulla, le restrizioni che vengono imposte dalla Europa e che vanno a colpire direttamente la raffineria di Priolo, creiamo una serie di difficoltà enormi perché si parla di posti di lavoro, 5, 600, ma non è solo quello, perché i posti di lavoro e la raffineria sono quelli, ma dietro c'è l'indotto, tutto quello che c'è. E allora, dice Nino Minardo, parlerò col ministro Giorgetti dello sviluppo economico proprio per cercare di trovare una soluzione e fare una deroga per quanto riguarda il petrolio che viene con le navi e va alle raffinerie, cioè con gli oliodotti. D'altra parte viviamo di deroghe. La trasversalità è nel partito della rifondazione comunista, che dice la stessa cosa, con finalità diverse. Loro dicono dobbiamo difendere i lavoratori, considerate che noi siamo stati per anni militarizzati, siamo gli americani, ci hanno reso americani. E ora che ci sono queste difficoltà economiche, ricordiamo gli americani e chiudiamo il gas e il petrolio, tutto il petrolio, e ci fa mancare migliaia di posti di lavoro. Quindi questi due la pensano allo stesso modo. C'è una notizia che ci arriva dalla regione, dice che sono stati finanziati 6 milioni e 3 per la provincia di Ragusa. Sono tutta una serie di servizi che riguardano, ve ne dico alcuni, 720 mila Euro per la pista ciclabile. Queste piste ciclabili vanno tanto di moda che possiamo fare a meno di fare le strade e faremo tutte le piste ciclabili. Abbiamo portusi tanti, tanti che non si possono riparare, ma avremo una bellissima pista ciclabile che va, pensate un po', da Casuzze, e anche lì non è che gli piace tanto, fino a Playa Grande e a Donna Lucata. Io non vado in bicicletta, ma penso che piacerà a tanti, però abbiamo speso tanti di quei soldi che se avessimo sistemato meglio alcune strade potremmo camminare con più sicurezza. Poi c'è 1 milione e 8 per il palazzo Bruno di Belmonte, questo è il comune di Ispica, 1 milione e 3 per i lavori di rifacimento della via degli Aragonesi a Comiso, poi ci sono soldi per le strade, la Ispica Pozzallo, la Pozzallo-Sampieri, la circonvallazione di Pozzallo, questa importantissima, la circonvallazione di Pozzallo che ci permette di collegarci con l'autostrada, è uno schifo, è quello che vi dicevo io, non solo buche, ma avvallamenti, gradini e quindi mi pare una cosa urgentissima. La Ispica Pachino, dicevamo, è un'oasi del cane presso la villa del comandante dell'ex base nato di Comiso, poi di Comiso parleremo. Sono infrastrutture continue in Ragusa che miglioreranno i servizi nel nostro territorio. Parliamo di Ragusa, parliamo di acqua, perché anche questo è un problema che dobbiamo analizzare. Ricordate, l'altro ieri vi ho fatto vedere quelle immagini del flusso d'acqua che arrivava violentissimo nei serbatoi, pensavamo di aver risolto tutti i problemi, invece non è così perché purtroppo l'acqua ha fatto rompere una pompa, forse si rompa l'acqua, la pompa si è rotta e quindi già ieri, giorno 2, eravamo in difficoltà con l'acqua, è intervenuto Calabrese, ma ci dice l'amministrazione comunale che il problema sarebbe stato risolto, quindi da domani, da oggi, da domani, soprattutto da domani, sono alcune immagini, perché è anche vero che le tubature non funzionano tanto, però di questo ne parleremo, intanto dice l'amministrazione non vi preoccupate, risolveremo i problemi rispondendo a Calabrese, ma non sembra che tutto sia chiarito. Oggi, questa mattina, c'è stato il convegno relativo alla questione del Caravaggio, ricordate? Allora, devo dire che non poteva essere diversamente, perché il convegno è stato organizzato con le stesse personalità che avevano supportato la stessa mostra, cioè coloro che facevano parte avevano già scritto nel catalogo, quindi praticamente erano le personalità che erano state già chiamate e avevano dato il loro parere positivo per quanto riguarda l'attribuzione di questo quadro a Calabaggio, anche se nel catalogo risultano ancora molti dubbi, ma sono chiaramente spiegati nel catalogo, cioè nessuno può dire con certezza che questo quadro è di Calabaggio, ma nello stesso tempo nessuno può dire che non è di Calabaggio, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se avessimo, come sentirete più tardi, discusso meglio questa situazione, presentandola meglio, probabilmente non saremmo a discutere di truffe, di tarocchi e cose di questo genere perché si sarebbe detto prima e avremmo risolto il problema. La più accreditata per poter dire qualcosa è la restauratrice che vedete, che tra l'altro essendo stata la restauratrice e quindi ci ha lavorato tanto tempo, non credo che potesse dire in un convegno sapete io ho restaurato un quadro falso, ma devo anche dire che se andassimo a vedere, cioè praticamente il quadro l'ha fatto lei, perché era così combinato male che lo ha restaurato tanto da farlo diventare un quadro che oggi vediamo, ma praticamente forse è diverso da quello che era nel 1500, la fine del 1500. Allora sentiamo cosa ha detto la restauratrice e poi andiamo avanti con il tragiornale, vediamo.